Salvatore Ferrara, maratonete ecologico in questi giorni, in grande attività in varie località, in varie situazioni, anche per eliminare i materiali di scarto che si sono trovati nelle spiagge e in altri siti. Ecco, dove è stato Ferrara in questi giorni? Ultimamente sono andato a correre a Savoga, Castemmola, Bena, Piedemonte, così, e correndo dopo le strade trovo molta plastica sul ciglio della strada, così. Dunque lei l'ha raccolto per pulire e sensibilizzare quanti lasciano per terra questi materiali. Sì, per me questa è una missione, tanto per fare che vieni alle persone adulte, ma soprattutto per i banchini. Lei è anche famoso perché ha effettuato spesso la scalata dell'Empire Style Golding. Ha in programma di ritornare a New York per effettuare questa gara alla quale lei partecipava con il mitico Cico Scimone? Sì, a New York ho partecipato per cinque volte, ma purtroppo per motivi vari non ci vado più. Però ho in programma di scalare con il cattacielo a Milano. Dunque, cosa vuole dire a quanti lasciano l'immondizia nelle spiagge? Mi dispiace questo, speriamo che recepisca il mio messaggio, che è questa la mia missione. Ma non solo io alle persone, ma anche ai politici.